innanzitutto grazie a tutti per averci invitato oggi a offrire questo contributo purtroppo non siamo in presenza questo un po mi dispiace perché vedo che collegata c'è veramente molta gente che conosco e alcune persone che che non incontro da tantissimo tempo ovviamente in presenza sarebbe stata anche una buona occasione per riallacciare dei rapporti il nostro contributo oggi va proprio nella direzione che abbiamo appena detto cioè di provare a approfondire quali quali sono gli effetti di una gestione del pascolo su alcune abita su alcune situazioni vegetazionali e in particolare è gestione del pascolo intesa come gestione attraverso uno strumento che il piano di gestione pastorale che come vedremo in regione piemonte nel corso del tempo ha assunto diversi nomi e ha avuto anche diversi ruoli e infatti volevo iniziare la mia presentazione con un rapido escursus su alcune etappe importanti della pianificazione della gestione pastorale in piemonte diciamo pure che fino al 2009 le esperienze di gestione pastorale erano pianificata erano piuttosto limitate per cui ad esempio troviamo alcuni piani di pascolo all'interno dei piani naturalistici delle aree protette o poco altro con il 2009 la regione piemonte ha fatto un passo importante e ha inserito i piani pastorali all'interno del psr 2007 2013 attraverso la misura 214 62 quindi sono state redatte delle linee guida per la redazione dei piani che hanno trovato anche uno spazio all'interno del contesto normativo regionale attraverso la delibera 526 del 2009 poi nel 2014 in realtà con il termine della vecchia programmazione i piani pastorali sono stati stralciati dalla nuova programmazione quindi non li troviamo all'interno della programmazione attualmente in atto se non diciamo come un sotto capitolo dei piani forestali aziendali però nel 2015 il ministero dell'agricoltura attraverso un suo opposito decreto ha concesso la possibilità di derogare all'applicazione dei carichi minimi della domanda unica della pac e quindi di fatto la pianificazione pastorale è rientrata in gioco perché regione piemonte nel luglio del 2017 attraverso la determina 14 52 85 ha riesumato le linee guida per la redazione dei piani pastorali in una versione modificata e anche semplificata e quindi di fatto ha introdotto questo strumento come strumento di pianificazione che oggi trova applicazione in diversi contesti in piemonte e uno è quello che abbiamo già citato dei pagamenti diretti dove il piano pastorale può essere fatto valere dalle aziende agricole per operare in derga ai carichi minimi previsti dal decreto del ministero dell'agricoltura però i piani pastorali sono presenti come strumento all'interno delle misure di conservazione dei sic o insomma per chi ha cambiato status delle z sc e già dal 2016 le misure di conservazione introducono il ppf tra le buone pratiche da promuovere per quanto non sia introdotto come uno strumento obbligatorio ma come uno strumento la cui obbligatorietà e la cui cogenza può essere decisa dall'ente gestione. Poi i piani pastorali entrano all'interno dei piani di gestione delle associazioni fondiarie. Le associazioni fondiarie che sono normate in piemonte dalla legge 21 del 2016 e che ricalcano in buona parte le associazioni fondiarie pastorale presenti in Francia fin dall'inizio degli anni 70 sono anche in piemonte associazioni per lo più pastorali e quindi il piano pastorale è uno strumento importante di gestione all'interno delle associazioni. Inoltre i piani pastorali hanno trovato e trovano applicazione per esempio da parte di alcuni comuni illuminati che nell'affidamento degli alpeggi inseriscono oltre all'offerta economica anche un'offerta tecnica che a volte prevede per le aziende che partecipano agli appalti per l'affidamento dell'alpeggio anche la redazione di un piano pastorale. E non ultimo ci sono alcune aziende non moltissime ma diverse in Piemonte che hanno volontariamente scelto di andare nella direzione della pianificazione della gestione pastorale soprattutto per godere al meglio di quelli che sono i vantaggi delle misure agroambientali previste dalla corrente programmazione del PSR che peraltro hanno incrementato il livello dei contributi per il pascolamento in montagna in alpeggio che sono passati da 60 euro a ettaro a 110 quindi è stato un incremento notevole per beneficiarmi al meglio alcune aziende hanno deciso di andare nella direzione della pianificazione quindi di una gestione ben pianificata. Quello che io vi presento oggi in questo contesto sono i risultati di un monitoraggio di alcuni casi di applicazione del piano di gestione pastorale e in particolare per la valutazione dei benefici della pianificazione pastorale abbiamo effettuato tra gli anni 2011 e 2016 un monitoraggio abbastanza di dettagli su due alpeggi siti nel sic della val francea quindi in comune del pregelato e gestiti da due aziende di dimensioni medio grande che infatti gestiscono complessivamente una superficie rispettivamente di 1300 di 1600 ettari quindi non sono alpegini proprio di piccole dimensioni che gestiscono un discreto numero di animali ripartiti in un caso in quattro madre nell'altro in tre e che hanno un orientamento in un caso misto latte carne e nell'altro caso orientamento carne. La nostra intenzione sarebbe stata anche quella magari di monitorare un maggior numero di situazioni tuttavia quella misura della quale vi parlavo prima prevista dal PSR 2007-2013 ha portato in Piemonte complessivamente alla redazione di una quarantina di piani pastorali e tra questi piani pastorali di fatto abbiamo potuto scegliere un numero abbastanza limitato di tra un numero abbastanza limitato di casi e ci siamo orientati verso due aziende che hanno con l'introduzione del piano pastorale modificato completamente la gestione nel senso che siamo passati da un pascolamento continuo estensivo di fatto meglio noto come pascolamento libero che veniva praticato fino al 2010 a un pascolamento con un piano pastorale di tipo tornato perché le linee guida prevedevano e prevedono quello adottato dal 2012 dal 2011 fino alla data corrente. Tanto per darvi un'idea questa che vedete nell'immagine in alto destra era la superficie utilizzata da una delle quattro madre di una delle due aziende che monticano in Val di Susa fino al 2010 il bestiano praticamente non aveva nessun vincolo al pascolamento se non le barriere naturali. A partire dal 2011 la situazione è cambiata e quella madre ha visto innanzitutto escludere alcune zone per esempio la ricetta è abbastanza chiusa che era opportuno che non venissero pascolati, ha visto escludere alcune zone di pendio ma soprattutto sono state introdotte delle recinzioni che per quanto di grandi dimensioni in tal unicasi hanno consentito come vediamo più avanti di ripartire i carichi in modo più omogenee ma soprattutto di definire dei carichi in equilibrio con la risorsa foraggera presente in quelle determinate zone. Gli obiettivi del nostro monitoraggio erano, sono stati in particolare di verificare l'applicazione dei piani pastorali sia sulla vegetazione sia sul comportamento spaziale degli animali e quindi adesso andremo a vedere alcuni risultati che riguardano in particolare questi due aspetti. Per quanto riguarda il discorso vegetazione il monitoraggio è stato effettuato su una griglia di 500 e 20 rilievi sparsi all'interno delle aree utilizzate dalle due aziende in Valtrancea. Su questa griglia sono stati effettuati dei rilievi secondo il metodo fitopastorale di Idaget e Poissonet e sono stati effettuati nell'estate del 2011 prima che avvenisse la prima utilizzazione con il pascolamento tornato e quindi di fatto sono all'effetto del pascolamento libero degli anni precedenti e sono stati poi ripetuti integralmente nel 2016 a 5 anni dell'applicazione del pascolamento tornato. Tanto per cominciare a mettere qualche numero attraverso questi rilievi abbiamo identificato ben 290 specie che sono riferibili a 29 comunità vegetali riconducibili a loro volta a 5 tipologie di pascoli che sono poi dei grossi gruppi vegetazionali caratterizzate da condizioni ecologiche omogenee. I rilievi ci hanno consentito di tirar fuori delle mappe come questa dove vedete indicate le diverse celle della griglia in colori diversi a seconda dei tipi di vegetazione presenti. Quindi ad esempio le aree che vedete indicate con un colore roso sono quelle che erano invase da arbusti come il ginepranano, il rhododendro o il vaccino galteriolges, il falso vaccino. Le zone grigie sono sicuramente meno presenti perché sono formazioni di altitudine le classiche a vallette nivale, ad esempio all'Opecoro Gerardi, ai Salici o a Plantago Alpine. Cosa è successo dopo il monitoraggio iniziale a distanza di 5 anni? Se consideriamo la composizione botanica e in particolare alcuni gruppi funzionali di specie e quindi andiamo a vedere le specie che sono tipiche di ambienti poveri di nutrienti, oligotrofici, le specie di ambienti mediamente fertili e le specie invece di ambienti fertili, è chiaro in tutti i casi che a 5 anni di distanza la composizione della vegetazione non è che si è stravolta e non era neanche l'obiettivo di stravolgerla. Però vediamo da quest'immagine che le specie degli ambienti poveri di nutrienti si sono ridotte significativamente, a vantaggio delle altre due categorie di specie, quindi sia di quelle di ambienti mediamente fertili sia quelli di ambienti fertili. Quindi c'è stato uno shift, diciamo, che ha in qualche modo ridotto la povertà forgera dell'alpeggio. Se consideriamo la biodiversità vegetale e prendiamo uno degli indicatori più conosciuti, che è la ricchezza specifica, anche se poi nei diversi lavori che sono derivati da questo monitoraggio abbiamo ovviamente considerato anche tutti gli altri indicatori di biodiversità, vedete come in generale la ricchezza specifica di tutte le tipologie di pascolo è aumentata e quindi nel complesso la ricchezza specifica degli alpeggi è passata da circa 29 specie per rilievo a oltre 36 specie per rilievo, con un aumento molto significativo. Siccome i margari vanno in alpeggio per pascolare e quindi pensano molto alla risorsa forgera, se prendiamo in considerazione il parametro composizione della vegetazione vedete che la qualità del foraggio è nel complesso aumentata, nel senso che si è ridotto il contributo delle specie non appetibili che sono tendenzialmente rifiutate dagli animali, mentre ha aumentato il contributo delle specie mediamente appetibili. Non si è visto nulla invece rispetto a quelle specie che sono molto appetibili. Quindi se andiamo a vedere le diverse tipologie di pascoli, osserviamo che in realtà non c'è stato, nonostante questi cambiamenti della composizione specifica, una variazione molto importante del valore forgero della vegetazione, che è aumentato nel suo complesso in modo debolmente significativo ma a malapena di 0,7 punti nella media. Quindi è un aumento che non ha tanto significato dal punto di vista biologico. Però è un aumento importante che ci indica una tendenza alla crescita del valore foraggero con una gestione pianificata, che in questo caso sembra essere imbutabile soprattutto a un miglioramento del valore foraggero, soprattutto delle zone invasi ad arbusti. Per quello che riguarda invece il monitoraggio del comportamento animale è stato effettuato mettendo su un numero rappresentativo di animali di una delle mandrie considerate dei collari GPS che acquisivano la posizione degli animali 24 ore su 24 in modo da avere delle mappe delle distribuzioni degli animali sul pascolo come quella che vedete in questa immagine. Quindi combinando le mappe della vegetazione con le mappe della distribuzione degli animali sul pascolo ottenuti tramite fix GPS, è stato possibile calcolare alcuni indici che ci consentono di fare alcune considerazioni sulla selezione delle diverse tipologie di pascolo dalle diverse mandrie. In particolare oggi vi presento i risultati relativi ai due indici, quelli di selettività e quelli di selettività standardizzato. Sono due indici che sono abbastanza semplici da comprendere perché praticamente ci dicono che nel primo caso dell'indice di selettività, se l'indice è in circa uguale a 1, gli animali non hanno nessuna preferenza particolare per quella determinata formazione vegetale. Se invece l'indice è minore di 1 ed è significativamente minore, significa che gli animali tendono a evitare quella zona, mentre se l'indice è maggiore di 1 significa che tendono a cercarla selettivamente. Quindi fanno anche a volte, come abbiamo visto dai percorsi GPS, chilometri e chilometri a caccia di quella determinata formazione perché sanno che è particolarmente buona. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che prima dell'applicazione del PPF, del piano pastorale, che è la prima colonna di questa tabellina, di fatto esistevano delle formazioni decisamente evitate, quelle di condizioni termiche, i pascoli più poveri e quelle in base ad arbusti, mentre esistevano all'opposto delle formazioni come quelle di altitudine e quelle mediamente fertili decisamente ricercate. Gli animali cioè facevano, liberi di muoversi senza nessun vincolo, facevano quello che ci si aspetta. Andavano a frequentare le zone migliori, migliorandole, però in alcuni casi anche creando quei problemi ai quali si accennava prima, come ad esempio l'erosione. All'opposto evitavano invece tutte le zone peggiori con un inesperimento delle condizioni di invasione e di impoverimento. Con l'introduzione del piano di pascolo, come vedete, la situazione si è discretamente riequilibrata, perché è aumentata, anche se in modo non molto rilevante, la frequentazione dei pascoli di condizioni termiche, si è un po' ridotta la frequentazione di aree molto fragili, come le vallette nivali che stanno in altitudine, e in generale è andata equilibrando, c'è stata comunque una maggiore selettività nei pascoli poveri, mediamente fertili, invasi di arbusti. L'indice standardizzato ci dice forse ancora meglio questa situazione. Sulla sinistra vedete i valori di questo indice per le diverse tipologie di pascolo, e notate subito che c'era un notevole disequilibrio tra le diverse tipologie di pascolo, considerando tutto dal peggio nel suo insieme. Con l'applicazione dei piani pastorali, l'immagine a destra ci mostra come c'è stato un riequilibrio, quindi di fatto gli animali hanno cominciato a utilizzare e a selezionare in modo più emogeneo diversi tipi di vegetazione. Per capire come hanno cominciato, diciamo, a selezionare in questo modo, abbiamo fatto, come ultima cosa che vi presento oggi, un'analisi della distribuzione degli animali sul pascolo, andando a selezionare un paio di recinti, nel quale una delle madre permaneva per un periodo piuttosto lungo, un mese, dividendo il periodo di permanenza in due periodi di 15 giorni, rilevando la posizione degli animali con il GPS e rilevando poi ovviamente anche la posizione di tutti i punti di attrazione, quindi sale e acqua. E molto rapidamente vediamo che se nel primo periodo, nei primi 15 giorni, gli animali hanno, la mandria ha un comportamento che è molto simile a quello del pascolamento libero e quindi c'è una tendenza a concentrarsi nelle zone meno pendenti oppure nelle zone vicino ai punti acqua, nel secondo periodo la presenza delle recinzioni fa sì che gli animali debbano per forza cominciare ad andare a ispezionare anche delle zone che non sono vicine ai punti acqua, non sono vicine ai punti sale, non sono, diciamo, in aree pianeggianti. E in effetti le statistiche ci mettono in evidenza questo, che le distanze dai punti sale, dai punti acqua e dalle zone di, e la frequentazione delle zone di dipendenza sono sempre aumentate in modo significativo nel secondo periodo rispetto al primo. Quindi che cosa possiamo concludere dopo alcuni anni di esperienza di adozione dei piani pastorali, esperienza che peraltro è proseguita perché le aziende continuano ancora nonostante non ci sia più un vero e proprio incentivo all'adozione del piano di pascolo ad adottare i piani di pascolo stessi. Beh innanzitutto gli animali, abbiamo visto, tendono a utilizzare in modo più omogeneo la vegetazione, andando a frequentare anche delle zone che sono poco pascolate o meglio che erano poco pascolate precedentemente. Questo fa sì che migliori la biodiversità e migliori, per quanto molto lentamente, la qualità pabulare. Sarebbe molto interessante quest'estate a dieci anni dalla prima esperienza andare a vedere che cosa è successo alla qualità foraggera. Inoltre si riducono gli arbusti invadenti. Questo soprattutto diciamo a beneficio di chi lavora nei parchi non significa che siamo andati a modificare degli habitat, significa che siamo andati ad aprire degli habitat e l'apertura di habitat arbustivi prima chiusi abbiamo visto con altri lavori che è di vantaggio per esempio alla presenza dei galliformi che hanno in questi habitat misti i loro habitat preferenziali di alimentazione. Dal punto di vista pastorale ciò ha consentito di aumentare il carico, quindi meno arbusti, migliori la qualità di fargico lungo termine e secondo l'esperienza dell'elevatore ha consentito anche di migliorare la produzione di latte perché gli animali mangiano meglio e si muovono meno. Restano ancora da verificare, appunto, che sarebbe interessante gli effetti di questo tipo di gestione sugli stock di carbonio. Per quello che riguarda in generale le ricadute dei piani pastorali per la montagna, diciamo pure, anche se sono cose abbastanza banali, che un territorio gestito comunque è una garanzia di mantenimento dei servizi ecosistemici forniti dai pascoli e i nostri risultati e il nostro monitoraggio sembrano confermare queste che sono, diciamo, delle tendenze note. I rischi di incendio e tutti gli altri rischi ai quali accennava anche prima Luca si dovrebbero mitigare e dovrebbe aumentare anche la fruibilità, ma una fruibilità possibilmente compatibile. Nel momento in cui non devo passare dentro un arbustetto spaccando tutto, probabilmente anche come turista sono più contento, ma è più contento l'ambiente. E infine, una gestione ben condotta degli alpeggi significa anche maggiore opportunità di valorizzare le produzioni. Non dimentichiamoci che le aziende pastorali che frequentano questi ambienti e che li gestiscono a volte da secoli, sono aziende agricole e quindi devono ritare un reddito dalla loro attività. Quindi con una migliore gestione, commercializzando al meglio i loro prodotti, integrando con le filiere del turismo, sicuramente ne traggono dei vantaggi le aziende, ma anche l'ambiente e la collettività in generale. E con questo io ho concluso la mia presentazione e vi ringrazio per l'attenzione.